Un invito a tutti i beneventani perché aderiscano alle 5 giornate di prevenzione in programma in città fino al 3 maggio prossimo. Lo ha lanciato il direttore generale dell'Asla di Benevento, Gennaro Volpe, inaugurando il tour dedicato alla prevenzione oncologica con un poliambulatorio mobile attrezzato per l'effettuazione gratuita di esami per i tre principali tumori che colpiscono la popolazione, quello della mammella, dell'utero e del colon retto. Ci sono ancora posti, si può venire anche senza prenotazione, quindi su questo voglio dirlo tranquillamente a tutte le persone di venire presso il nostro track. È bene organizzato, non c'è fila, quindi tranquillamente si può fare veramente un qualcosa per se stessi. La prevenzione è un momento importantissimo perché veramente l'abbiamo visto nella prima fase. Il 10% di quelli che sono venuti presso il nostro track avevano dei problemini che abbiamo poi risolto con secondi livelli ed altro ed è stato importante e le persone sono state molto soddisfatte. E infatti dopo due anni di pandemia si registra il 30% in più di casi di diagnosi tardiva di cancro e dunque si rivela essenziale il ruolo della prevenzione. Restano ancora alti poi i numeri dell'infezione da Covid-19 con oltre 7.000 casi nel sagno. L'attività dell'assero continua perché è finita la fase di emergenza per legge, però dobbiamo dire che comunque i casi ce ne sono, ce ne sono ancora tantissimi, con meno affluenza presso gli ospedali, però sul territorio si registrano ancora più di 7.000 positivi.